Grazie a tutti. Con i pezzi di calcio a varie parti del corpo, i più semplici possibili. La cosa più delicata è sfilare. La barba sarà la cosa più difficile da fare. Grazie a tutti. Si focalizza l'attenzione sul fatto che quello che sto facendo fa male o non fa male alla pianta, anche se poi il risultato è esteticamente gradevole, però è una violenza mascherata. Grazie. Grazie a tutti.